Ivan Graziani un grande gol, voluto, cercato, tentato, un gol da grande attaccante o un gol da tre punti? La verità o la bugia dico? Infatti era un po' anche una domanda, voluto, tentato, istintivo diciamo? No, volevo metterla in mezzo per Pablo, poi dopo, sai, lui mi ha sbilanciato, se no faceva col Pablo, mi ha sbilanciato il difensore e è andata bene lo stesso dai. Voleva essere un cross e invece è stato un tiro distinto? Esatto, voleva essere un cross e invece dopo mi ha sbilanciato è andata sopra la portiera, è andata bene dai. Un buon inizio per il campionato della Feralpi, l'anno scorso avevate impattato con la Canavese e stavolta è andata decisamente meglio. Direi un buon inizio soprattutto perché comunque dopo l'annata dell'anno scorso penso che comunque ci vengono a prendere tutti un po' più decisi. L'anno scorso, sai, era la matricola, invece quest'anno conoscendoci magari già ci vengono a prendere con un altro piglio. Comunque dai, è andata bene, tutto bene dai.